Ciao ragazzi e benvenuti in questo video, Verona 4 Perugia 1, la squadra di Aglietti avanza il turno, avanza il turno e si qualifica per la semifinale playoff dove affronterà il Pescara, dopo quindi ben evento Ciladella abbiamo anche la seconda semifinale che sarà tra Pescara e Verona, una sfida sentita anche tra le due tifoserie, una sfida veramente molto molto bella che decreterà chi tra il Verona e il Pescara andrà a giocarsi questa finale playoff. La squadra Scaligero secondo me in questo momento diventa la vera pretendente però per la promozione durante questi playoff perché ha dei giocatori decisivi, sto parlando ovviamente di Samuel Di Carmine e di Giampaolo Pazzini, Pazzini che entra ed è subito decisivo, dodicesimo gol stagionale, doppietta questa sera durante i tempi supplementari perché la parità è andata, i tempi supplementari quindi non sono bastati i 90 minuti regolamentari per decidere chi tra Verona e Perugia andasse in semifinale. Una parità anche decisa dagli episodi, vedi il calcio di rigore di Luca Vido al minuto 89, vedi la parata stellare di Gabri e Ressurpazzini al minuto 96. Una parità decisa anche dall'espulsione di Quan nel corso del secondo tempo, una doppia munizione che secondo me ha deciso in gran lunga, in gran parte questa parità. Però il Perugia di Nesta non ha mai mollato, non ha mai mollato, ha creato occasioni pericolose fino al minuto 89 dove Luca Vido dalle 11 metri non ha sbagliato. Spiazza Silvestri per l'1-1 che gela il Bentegodi, Bentegodi che si pensava già di essere in semifinale dove affronterà comunque il Pescara. Mi tornano ai tempi, comunque tornano ai tempi vecchi perché Pescara e Verona fu anche una finale playoff in 6-1, quindi comunque una sfida sentita tra i due tifosi. Questo l'abbiamo già detto ma comunque lo possiamo anche ripetere perché questa sfida sicuramente tira fuori anche sfide del passato tra il Verona e il Pescara. Perugia che comunque non molla, vuole questa semifinale e nei tempi supplementari non ha grosse occasioni, anzi è Empera Eura a chiudere i giochi al minuto 104 con un gran gol, un tiro da fuori che vede sicuramente impreparato Gabriel. Verona 2, Perugia 1 alla fine del primo tempo supplementare e poi c'è lui ragazzi, Giampaolo Pazzini. Prima una grande incornata sul cross di lì che porta il vantaggio sul 3-1, il punteggio sul 3-1 e poi non sbaglia da pochi metri e infila Gabriel per la quarta volta. Doppito di Pazzini che quindi è subito decisivo in questi play-off, ecco dal mio punto di vista direi a Daglietti, vi permetto di dare a Daglietti un consiglio. Pazzini di Carmine insieme in questo momento perché secondo me il Verona ha una grande opportunità di vincere questi play-off per gli uomini che ha in campo. Lì Laribi, anche Di Carmine, Di Carmine che ha fatto un gol nel corso del primo tempo da vedere e rivedere, si è giato all'interno del piede perno e poi ha battuto con il sinistro Di Carmine con un tiro pazzesco. Veramente un gol incredibile, quello di Samuel Di Carmine che ha avuto una stagione al di sotto delle aspettative, Verona l'aveva preso per formare una coppia da oltre 20 reti con Giampaolo Pazzini. Di Carmine è un po' deluso però in questo finale doppietta al Foggia, gol decisivo in casa Renato Curi al Perugia e poi gol di questa sera che ha sbloccato il match. Ecco il Perugia che poteva anche portarsi in vantaggio nel corso di questa partita con Sadik che ha sbagliato però un gol praticamente a porta vuota nel corso del primo tempo. E poi la partita è cambiata, il Verona che non aveva creato fino a quel momento grosse occasioni da reti, sblocca la partita al quarantesimo e poi dei supplementari è Giampaolo Pazzini a portare la squadra Scaligina in semifinale dove affronterà quindi il Pescara. Pescara è sicuramente di Bebby Pilon, una squadra comunque preparata per affrontare questo tipo di sfide sarà sicuramente una bella semifinale. Io vi ringrazio per l'attenzione come sempre e vi ricordo di iscrivervi al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram, noi ci vediamo in un prossimo video.